A Padova è stato raggiunto il livello di criticità 2 per l'inquinamento. I dati sulla concentrazione del PM10 resi disponibile dall'ARPAV evidenziano che per tre giorni consecutivi si è superata la soglia dei 100 microgrammi per metro cubo di PM10. Dal 1 febbraio al 14 aprile quindi sono state emesse ulteriori limitazioni dal comune di Padova. Ad esempio sarà esteso il divieto di circolazione anche agli autoveicoli alimentari a gasolio Euro 3 diesel non adibiti a servizio di trasporto pubblico. Sarà inoltre previsto il blocco della circolazione dei veicoli da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 e 30 con esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Divieto pure di accensione di impianti termici a biomassa, legna o cippato pellet se presente un altro tipo di impianto autonomo o centralizzato alimentato a metano, GPL o gasolio. Inoltre sarà anche divieto di combustione di residui vegetali all'aperto. Bisognerà attendere le piogge dei prossimi giorni per vedere forse un attenuamento dei livelli di PM10 in città. Sv. Merchannel News, Padova